Cari amici ricercatori, medici, infermieri, in questo momento siete il nostro esercito in guerra che combatte sul fronte di questa pandemia. Vi faccio i miei migliori auguri e spero un giorno di poter contraccambiare in un paese che abbia bisogno di artisti che lavorino 26 ore al giorno facendo 5 spettacoli, girando tutta la notte per intrattenere il pubblico e dare il proprio contributo. Un caro abbraccio.